10.000 iscritti ciao a tutti ragazzi bentornati in un nuovo video in cui voglio ringraziare tutti ma veramente tutti per il risultato che mi avete permesso di raggiungere cioè i 10.000 iscritti per me è veramente importantissimo questo traguardo in questo video voglio ringraziarvi raccontarvi un po la storia di come è nato il mio canale come ho avuto l'idea di farlo nascere e voglio parlarvi anche di un regalo per voi in pratica bondora mette a disposizione 5 premi da 50 euro per ciascuno di voi che nei prossimi 14 giorni si iscriverà alla piattaforma bondora investirà almeno un euro utilizzando il link che vi lascio in descrizione in più nei prossimi 14 giorni in cui attivo questo contest chi si iscriverà a bondora riceverà non il solito premio da 5 euro bonus ma riceverà ben 10 euro bonus per iniziare a investire nella piattaforma in pratica con questa offerta 5 fortunati investitori riceveranno 60 euro bonus i passaggi per partecipare a questo contest sono molto semplici per partecipare a questo contest un investitore deve essere un nuovo investitore sulla piattaforma e devi iscriversi a bondora a questo punto l'investitore riceve immediatamente 10 euro bonus per investire e poi quando investirà almeno un euro nella piattaforma entrerà di diritto nella lista dei possibili vincitori nell'estrazione dei 50 euro bonus per 5 fortunati investitori io voglio ringraziare tantissimo bondora per avermi permesso di fare questo contest questo gioco a premi e aver permesso soprattutto a tutti gli investitori che mi seguono sul canale di poter guadagnare di più dai loro investimenti utilizzando questi bonus chiarito come partecipare al contest in questo video voglio parlarvi un po di come è nata l'idea del canale e di quella che è la mia storia su youtube in realtà ho iniziato a guardare video su youtube dal 2014 quando dopo essermi diplomato ho iniziato l'università e ho iniziato ad avere un po più di tempo da dedicare alle cose che mi interessavano così per quattro anni e mezzo ho iniziato a guardare video su youtube iniziato a seguire i primi youtuber tra cui io toby montemagno e nel 2018 ho iniziato a guardare e seguire alcuni youtuber americani come ryan scrivner oppure financial education in quel periodo avevo anche quasi finito l'università perciò non sapevo benissimo da lì a qualche mese quale strada avrei in percorso e cosa veramente volevo fare perché l'università ok il lavoro ok però sento tuttora che non è la mia strada non sento che è la mia strada perché io ho sempre voluto avere qualcosa di mio un progetto mio da creare e costruire e con questo canale youtube in realtà ho trovato qualcosa che mi piace molto fare argomenti che mi piacciono soldi finanza personale e siccome in quel periodo avevo iniziato a seguire quei canali americani cui vi parlavo prima soprattutto ryan scrivner i loro contenuti parlano proprio di finanza personale investimenti e mi sono avvicinato anche al mondo dei libri sulla finanza personale tra cui padre ricco padre povero di robert kiyosaki quindi mi stavo per laureare avevo un futuro incerto e ho letto padre ricco padre povero di robert kiyosaki dal momento in cui ho letto quel libro la mia mente è come esplosa nuove idee nuovi valori nuovi concetti e nuove opportunità un nuovo modo di concepire le cose e il mondo dei soldi in pratica leggere quel libro mi ha spinto ad aprire un canale youtube in cui posso raccontare la mia esperienza che si crea piano piano nel mondo degli investimenti nel mondo del business portare sempre contenuti che mi stimolano continuamente e aiutare un sacco di persone da quello che mi sto accorgendo nei commenti a sotto ai miei video e in realtà all'inizio il canale voleva essere proprio questo cioè un diario dei miei investimenti e questo l'ho mantenuto nella serie dedicata ai miei investimenti mensile il canale voleva portare in continuazione tutto ciò che apprendevo sul mondo degli investimenti e con video dedicati alle tf al mondo del peer to peer lending sto portando proprio questo e infine con queste conoscenze voglio anche aiutare altre persone e grazie a voi questo è stato possibile per quanto riguarda all'inizio del canale ero veramente in imbarazzo perché in quel momento ero veramente l'ultima persona al mondo che si sognava di fare dei video davanti a una telecamera e pubblicare i propri contenuti è per questo che tra i primi miei video nel canale potete trovare alcuni video animati addirittura in inglese perché all'inizio quando avevo valutato un po' le possibilità avevo valutato anche di fare video in inglese dedicati a una lingua che poteva raggiungere più persone possibili in poco tempo però fare video animati in inglese è diventato faticoso difficile e veramente poco divertente perciò abbandonato subito quella pista non mi sentivo ancora di mostrarmi nei video perciò potete vedere nel mio canale tra i primi video anche dei video animati però in italiano in realtà quella serie dedicata al bilancio aziendale a come leggere un bilancio per me è molto importante interessante di poco successo ma interessante presto però anche quel format di video è iniziato a diventare piuttosto stretto perché volevo sempre di più partecipare io in prima persona ai video come vi ho detto prima in quel momento per me fare video su youtube mostrarmi pubblicamente non era assolutamente una cosa che tenevo in considerazione perciò ho deciso di accettare la sfida leggendo sempre più libri motivazionali di finanza personale e aumentando sempre di più le mie conoscenze e la mia consapevolezza quindi ho iniziato da zero totalmente no luci no videocamera registravo col mio iphone 6 no microfono registravo direttamente con le casse dell'iphone 6 non avevo uno spazio dedicato non avevo alcuna abilità di montaggio dei video mai fatto partivo da zero assoluto in realtà vedo tanti canali che nascono in questo periodo che sono molto più strutturati di me all'inizio e credo che potranno fare molta più strada di me perciò dico a tutti quelli che magari fanno dei video su youtube di non mollare perché la strada è quella giusta e ci vuole solamente pazienza e impegno ho iniziato anche perché volevo crearmi una seconda entrata dato che comunque con un'entrata da un lavoro da dipendente come ho tuttora non mi sento così sicuro perché da un giorno all'altro l'azienda potrebbe fallire io potrei perdere il lavoro l'entrata su youtube ha potenziale di lungo termine e perciò ho deciso di iniziare questa avventura circa un anno e mezzo fa in quel periodo in cui stavo studiando un attimo come impostare il canale che poi dopo pochi mesi si è rivelato un studio veramente inconsapevole di quello che stava succedendo mi ero posto degli obiettivi molto importanti e precisi cioè dopo un anno raggiungere 1.000 iscritti dopo due anni raggiungere 5.000 iscritti dopo tre anni 15.000 iscritti in realtà mi sentivo anche presuntuoso nel stabilire quegli obiettivi perché non avevo alcun tipo di abilità e pensavo ma quando mai quindi iniziato con il primo video in cui si vedeva a me in faccia era una recensione di mintos io ero in un riquadrino basso me la ricordo e avevo investito 100 euro avevo circa 25 iscritti però per avere solamente 25 iscritti non è andato così male quel video ha raggiunto dopo tre quattro mesi mille visualizzazioni come vi dicevo ho fatto quel video col mio iphone 6 senza microfono perciò comparando la qualità di quel video con i video che sto facendo tuttora che io personalmente non considero ancora di qualità ma assolutamente no la differenza è molto ampia quindi in sé quel video non è stato un granché assolutamente però per me è stato un passo fondamentale perché è stato il primo passo e credo che per molte persone questo sia il passo più difficile cioè iniziare poi piano piano giorno dopo giorno crescevo crescevo di 1 o 2 iscritti ogni due giorni poi un iscritto due iscritti al giorno e così via finché non ho raggiunto i primi 100 iscritti risultato che però non ho festeggiato così tanto perché avevo il mio obiettivo di lungo termine per quell'anno cioè raggiungere mille iscritti i 100 iscritti li ho raggiunti tipo dopo un mese e mezzo anche i video poco a poco iniziavano a prendere piede quindi fare prima 30 views poi 60 poi 100 e poi alcuni video hanno iniziato a raggiungere le prime 200 300 visualizzazioni in realtà non sono mai stato così demoralizzato dai giorni in cui gli iscritti calavano perché non sono stati né così tanto frequenti e poi i cali erano di due o tre iscritti massimo al giorno mentre passavano settimane in cui guadagnavo anche 10 iscritti perciò ero contento per ogni iscritto che guadagnavo in realtà tuttora sono sempre lì nella pagina analytics aggiorna 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 e esulto per ogni nuovo iscritto così dopo sei mesi di lavoro a gratis ho raggiunto nei primi mille iscritti e per me è stato un risultato veramente clamoroso perché l'avevo raggiunto nella metà del tempo che mi ero preventivato e in più stavano andando molto bene i miei video così d'estate ho continuato a fare video e ho raggiunto a settembre la quantità di ore di visualizzazione necessaria per attivare la monetizzazione ed ecco che circa metà settembre ho iniziato a guadagnare dei miei video per me questo è un risultato clamoroso perché finalmente guadagnavo qualche centesimo per i video che mi costavano ore e ore del mio tempo e alla fine dell'anno quindi poco più di due mesi fa ho raggiunto i 5 mil iscritti e pensare che sono passati due mesi e ho raddoppiato i miei iscritti per me è incredibile e ringrazio tutti voi per questo risultato ancora una volta devo dirvi anche che dai vostri commenti sotto ai miei video ho imparato veramente tantissimo perché alcuni di voi mi danno spunti di riflessione altri mi suggeriscono piattaforme o siti di investimento altre persone mi suggeriscono anche di considerare delle azioni particolari che poi studio e magari scopro essere un buon investimento personalmente cerco di rispondere a tutti su instagram per mail in risposta ai commenti dei miei video però chiaramente più aumentano le persone che commentano mi scrivono e meno sarà la percentuale a cui rispondo perché per me diventa sempre più dispendioso in termini di tempo rispondere a tutti io però cerco di rispondere quando posso per quanto riguarda il passato non c'è tanto altro da dire mi sto concentrando molto attualmente sul futuro nell'attivazione dei nuovi progetti sia su questo canale sia di nuove collaborazioni che anche fuori da questo canale questa in buona sostanza è la storia di come ho iniziato su youtube e da cosa è venuta la mia idea di aprire un canale youtube ancora una volta voglio ringraziarvi tantissimo per il risultato che mi avete permesso di ottenere è tutto merito vostro i 10.000 iscritti per me sono un traguardo enorme in più voglio ricordarvi di iscrivervi e partecipare al contest perché bondora mette a disposizione quei 50 euro bonus per 5 fortunati vincitori del premio tra 14 giorni questo gioco a premi scadrà e io farò un video dedicato all'estrazione dei 5 fortunati vincitori che riceveranno 50 euro bonus per il resto questo video finisce qui se vi è piaciuto e vi è interessata la mia storia e la storia di come è nato questo canale lasciate un bel like e se siete nuovi sul canale iscrivetevi e attivate la campana di notifica per non perdervi i miei prossimi video noi ci vediamo al prossimo video grazie mille per aver guardato